ragazzi sempre al primo dicembre 2023 direi che non siamo ancora in piena fioritura perché qui quando diciamo esplodono cioè la piena la piena buttata quando esplodono c'è pienissimo sono praticamente da questo che invece vedo che sono piccolina ci sono perché ci sono però non è proprio tanto come quando in quale non potresti fare davvero una decina di chili sono in questo po probabilmente siamo ancora un po indietro però adesso facciamo quelle po più grandicelle raccogliamo che le assaggiamo carina